Sindaco, cosa pensa dell'apertura del PD a un governo con il Movimento 5 Stelle? Io che devo pensare? Da sindaco, visto che qua parliamo di amministratori, io mi auguro che quanto prima ci sia un governo. Chiaramente non è che un governo è uguale all'altro. Devo dire, non lo so, mi fa un po' specie pensare a questo pendolo politico che un giorno va bene la Lega e forse va bene anche Forza Italia, purché sia concorrente esterno, purché non ci sia Berlusconi e il giorno dopo il PD. Io non posso valutare l'orientamento degli elettori, non mi permetterei mai, ma quello che posso intuire, e questo secondo me è un aspetto assai interessante della politica degli ultimi tempi, che il Movimento 5 Stelle è stato votato perché deve essere contro il sistema e per costruire un'alternativa. Fare un governo con la Lega o con il PD credo che può essere politicamente molto pericoloso per il Movimento 5 Stelle, ma ovviamente rispondo perché lei mi ha fatto la domanda, ma io faccio il sindaco e in questo momento non sono impegnato in un quadro nazionale. Quando un domani sarò impegnato in un quadro nazionale farò come ho fatto il sindaco, cioè le alleanze non le faccio con chi fa parte del sistema. Grazie.